Salve a tutti. In questo fare chiarizza sulla faccenda del gender. Negli anni passati si è parlato spesso della cosiddetta teoria gender o ideologia gender. Negli ambienti religiosi e di destra se ne continua a parlare, ogni tanto qualcuno lancia l'allarme gender, credendo che da qualche parte vogliano indottrinare i nostri figli e arrestare i genitori che si oppongano a questa cosa. Hanno anche creduto che Renzi nella riforma della buona scuola abbia messo il gender. Avrei voluto fare questo video molto tempo fa, quando se ne parlava molto, ma non ho mai avuto tempo per farlo, anche perché non è un video facile da fare. Ultimamente ho iniziato a seguire Diego Fusaro su YouTube, e ho visto che anche lui parla del gender, ma lui ha un'opinione diversa da quella che si ha di solito a riguardo, e questo ha generato dei fraintendimenti. Alle domanda se il gender esiste, c'è chi risponde di sì e fa allarmismo, c'è chi dice di no, e cerca di minimizzare e negare l'evidenza, io invece dico che pur essendoci un fondamento di verità bisogna fare chiarezza su cosa si sta dicendo ed evitare fraintendimenti vari. Innanzitutto bisogna chiarire una cosa. La faccenda del gender riguarda l'identità di genere, come appunto dice la parola stessa. Quando si parla di teoria gender si parla di una teoria della teoria, cioè esiste una teoria secondo cui esisterebbe la teoria gender, non sono le persone del mondo LGBT a parlare di teoria gender ma gli oppositori del gender a parlare di essa, e ovviamente lo fanno in modo che fa comodo a loro. Secondo questa teoria gender il sesso biologico non coinciderebbe con l'identità di genere e quest'ultima è completamente fai-da-te. Senza regole bisognerebbe distruggere completamente la dicotomia uomo-donna. Secondo questa teoria della teoria quando nelle scuole si fa educazione sessuale o si fa sensibilizzazione contro l'omofobia si vuole far diventare i bambini gay o trans, o gender fluid. C'è una bella differenza con quello che sostiene la comunità LGBT queer, sarebbe infatti più corretto parlare di teoria queer piuttosto che teoria gender, anche perché loro la chiamano teoria gender perché per loro la radice è sbagliata l'idea del genere come distinto dal sesso biologico. Ci sono una serie di cose che per loro derivano da questa separazione. Per gli oppositori del cosiddetto gender per natura la donna è quella che deve stare in casa a lavare i piatti, indossare la gonna e obbedire all'uomo. Se la donna invece viene trattata alla pari di un uomo e gender, perché starresti rompendo con ciò che la donna è per natura, creando un genere nuovo, cioè di sesso femminile e con un'identità di genere maschile almeno in parte. L'omosessualità anche sarebbe una rottura dell'unione tra sesso e genere, perché se sei uomo dovresti secondo loro andare con le donne, se invece vai con gli uomini stai infrangendo l'unità tra sesso e genere, come se tu almeno in parte fossi femmina. Nella cosiddetta teoria gender vengono messe insieme una serie di cose come omosessualità, transessualismo e femminismo come se fossero la stessa cosa. Non solo, si permettono anche di dire che l'obiettivo finale del gender è la pedofilia, ma questo richiede un video o una serie di video a parte. La teoria queer invece dice tutt'altra cosa. Alla base c'è comunque l'idea seconda cui il sesso e l'identità di genere non siano la stessa cosa, e che le due cose possono non coincidere. Ma la teoria della teoria gender modifica le argomentazioni sul queer per screditarle. Questo in logica si chiama fallacia dell'uomo di paglia. Non solo è un errore logico ma una strategia di retorica per cercare di far credere di avere ragione. Secondo la teoria queer l'identità di genere precede l'orientamento sessuale. Io sono un maschio a cui piacciono solo le ragazze, quindi sono etero. Se mi piacessero solo i ragazzi sarei gay, se mi piacessero entrambi sarei bisessuale. Questo è possibile perché la mia identità di genere è maschile. Nel mio caso, come nella maggior parte delle persone, la mia identità di genere coincide col sesso biologico. Se la mia identità di genere fosse femminile, se mi piacessero i ragazzi sarei etero, se mi piacessero le ragazze sarei lesbica, se mi piacessero entrambi sarei bisessuale. Per cui è un errore credere che i gay siano un prodotto del gender, oppure confondere i bisessuali con chi identifica il proprio genere come fluido? Al massimo il loro orientamento sessuale sarebbe fluido. Ma non la loro identità di genere. Tra l'altro, osierei dire, il gender fluid potrebbe portare al superamento dell'omosessualità, perché come spiegavo prima, per essere gay devi essere maschio e ti devono piacere i maschi, invece se una persona ha un'identità di genere fluido non puoi definirla omosessuale, perché l'omosessuale, nell'ottica queer, non è più una persona attratta da un'altra del suo stesso sesso, ma del suo stesso genere. Quindi se una persona del genere fluido è attratta da una persona del suo stesso sesso biologico non è gay. Le cose si complicano quando un maschio cisgender gay piace un transftone, cioè nato femmina che si identifica come uomo. In quel caso, può essere definito gay un maschio attratto da una donna con identità di genere maschile? È una questione che andrebbe trattata in altri video. Tornando all'argomento, se una persona gender fluid è attratta da una persona gender fluid può essere considerata gay, ci sarebbe un'altra considerazione da fare. A certe femministe non sta bene che alcune donne vogliano cambiare sesso per diventare uomo, come se loro non volessero accettare il fatto di essere donna. Oppure nel caso dei transftone credono che il pene non sia necessario, e che l'intervento non sia necessario e che sia la società fallocentrica a voler farci credere che siano necessari. Questo ve lo dico perché come vi dicevo prima chi parla di teoria gender è convinto che il femminismo sia un prodotto del gender, o che il gender sia un prodotto del femminismo. Però come dico sempre, ci sono vari tipi di femminismo. La prima parte del video finisce qui, vi consiglio di vedere anche la prossima per completare il discorso. A presto!